Nel prossimo weekend ci sarà il quarto turno del campionato, ma prima bisogna segnalare un intreccio di calciomercato che riguarda sia la Roma che il Napoli, archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, la luce dei riflettori è tornata di nuovo sul campionato. Il prossimo weekend, infatti, porterà con sé la quarta giornata della Serie A, 2024-2025. Tra le partite bisogna sicuramente inserire quelle dove sono impegnate la Roma di Daniele De Rossi ed il Napoli di Antonio Conte. Queste due squadre, di fatto, saranno di scena in due trasferte molto insidiose. La squadra giallorossa, infatti, giocherà allo Stadio Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il Napoli, invece, scenderà sul campo dell'Unipoldomus per sfidare il nuovo Cagliari di Davide Nicola, che ha pareggiato con il team Capitolino nel primo turno di campionato. La Roma, considerando i soli due punti totalizzati nelle prime tre partite, ha sicuramente bisogno di punti, ma anche il Napoli deve compiere un ulteriore passo dopo le due vittorie rimediate contro Bologna e Parma. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare un intreccio di calciomercato che riguarda proprio la squadra giallorossa e quella partenopea. Calciomercato, il Galatasaray potrebbe prendere Mario Rui prendere al posto di Nikola Zalewski, ecco le ultime. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport Italia, infatti, Mario Rui potrebbe sostituire Nikola Zalewski al Galatasaray, il club turco, quindi, è alla ricerca di un nuovo laterale, ma ancora deve trovare un accordo con i dirigenti della Roma sull'accessione del nazionale polacco, proprio per evitare di restare a mani vuote. Dunque, il Galatasaray starebbe pensando proprio a Mario Rui come possibile colpo last minute. Il portoghese è stato messo fuori rosa dal Napoli, visti i suoi continui rifiuti alle varie offerte che gli sono arrivate nella sessione estiva di campagna acquisti terminata in Italia una decina di giorni fa. Dopo aver preso Victor Ousimen, quindi, il Galatasaray potrebbe prendere un altro giocatore del Napoli sulla lista di sbarco. Nelle prossime ore, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sia sul futuro di Zalewski che su quello di Mario Rui. La sessione di mercato estivo in Turchia, infatti, chiuderà il prossimo 13 settembre. Grazie a tutti.